Regione Toscana, il Consiglio regionale. Il Consiglio regionale della Toscana ha inaugurato l'esposizione del premio Firenze con opere d'arte della sezione Arti Visive per la 38esima edizione di questo evento che rimarrà aperto al pubblico fino al 10 febbraio. Una manifestazione ormai storica, importante e di livello internazionale che ha visto coinvolti ben 133 artisti con 139 opere e 306 letterati con 349 lavori. È un premio che ormai è arrivata alla 38esima edizione che si è svolta a dicembre a Palazzo Vecchio nel Salone 500 che è la sua sede tradizionale. È un premio che vede assieme letteratura e arti visive con 5 sezioni a concorso nel comparto letterario e 4 sezioni a concorso in quello delle arti visive. Nel mentre abbiamo premiato gli artisti vincitori, primo, secondo e terzo premio e i premi Firenze Giovani con l'esposizione delle loro opere a Palazzo Vecchio nella giornata e alla cerimonia, oggi si inaugura la mostra premio di tutti gli altri artisti che sono stati segnalati e finalisti dalla giuria di merito. La fantasia e l'estro degli artisti non hanno limiti e confini e si estrinsecano nelle maniere più diverse. Basti vedere le opere che ci sono in scultura, in grafica, in pittura e nella fotografia che sono qui esposte. Altrettanto dicasi per quello che è stato per la letteratura e il comparto specifico con le opere nella poesia edita e inedita, nella saggistica edita, nella narrativa edita e nel racconto inedito. Il premio è ormai valicato con fini nazionali e d'altro canto tra i patrocini che assomma c'è l'alto patronato del Parlamento europeo, quindi è una testimonianza del significato che ormai ha assunto in campo sovranazionale. La giuria intanto è una giuria piuttosto importante, qualificata, composta da otto membri. Le opere in concorso erano 139, quindi tantissime da avere poi una selezione come questa di oggi, che sono una quarantina di artisti, non solo italiani ma anche dall'estero, da extra Europa. Il criterio di selezione è valutare un po' la ricerca che c'è dietro certi linguaggi delle arti visive, rispettando sia la tradizione sia le nuove metodologie. Il premio Firenze da 38 edizioni ci presenta una selezione dell'espressione artistica, culturale nel nome di Firenze, ma ormai vocata a parlare a tutto il mondo, che devo dire merita il sostegno delle istituzioni. Non per niente siamo qua e ospitiamo l'esposizione della sezione e arti visive nella sede del Consiglio regionale della Toscana, che da sempre appoggia e segue questo premio e ne sostiene le iniziative e gli intenti, soprattutto in un tempo come questo, della fine pandemia, speriamo post pandemia, nel quale è necessario sostenere la creatività, gli artisti, coloro che nei diversi campi espressivi hanno cercato di dar la voce, un disagio, la sofferenza che è poi quella di molti nostri concittadini e concittadine. In occasione del giuramento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, i grandi elettori della Toscana, Antonio Mazzeo per la maggioranza e Marco Landi per la minoranza, hanno partecipato al discorso di insediamento del Presidente della Repubblica. Ascoltiamo le loro parole appena usciti da Montecitorio. Mi sono davvero emozionato, emozionato nell'ascoltare un gigante, perché il Presidente Mattarella con il suo discorso, carico di politica, di buona politica, ma con un linguaggio rivolto alle cittadine e ai cittadini, un linguaggio di speranza, di speranza dopo i terribili anni della pandemia, un messaggio che arriva forte al cuore di chi si è impegnato in prima linea, di chi soffre usando per ben 18 volte la parola dignità, dignità contro la violenza sulle donne, dignità per i giovani, dignità per il lavoro, un faro, un esempio per chi come me si impegna ogni giorno in politica. Ancora di più, dopo aver ascoltato il suo discorso rivolto sia al Parlamento ma soprattutto alla Nazione, sono fiero e orgoglioso di aver votato il nuovo Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Il giuramento del Presidente Mattarella è stato un momento ancora di grande onore, rappresentanza di tutte le Toscane e i Toscani. Si conclude oggi la fase della proclamazione con il giuramento del nuovo Presidente, di questo settennato, che ci vede ancora in una fase di pandemia e sicuramente il discorso del Presidente Mattarella è stato molto applaudito ma anche molto toccante nel momento in cui ha ringraziato proprio in questo momento storico che stiamo vivendo dal punto di vista della sanità, pandemico, ha ringraziato tutti gli operatori sanitari, volontari e le forze dell'ordine. Sicuramente un discorso molto completo, ha toccato tantissimi punti, ha valorizzato la centralità del Parlamento ma soprattutto ha dedicato, e questo mi ha colpito molto, una buona parte del suo discorso incentrandolo sulla necessità della riforma della giustizia in Italia. Molti applausi, questi sono stati probabilmente i punti che più mi hanno toccato nel suo intervento ma credo che da oggi parte un nuovo percorso anche della politica e sicuramente la garanzia del Presidente, di un Presidente della Repubblica come Mattarella farà sì che anche le forze politiche che da qui a un anno andranno al voto sapranno far tesoro delle sue parole incentrate ovviamente sull'unità del Paese e della nostra nazione. Il Centro Expo del Consiglio regionale a Firenze ospita la mostra fotografica Campioni nella memoria, un evento espositivo unico che ricorda gli atleti deportati nei campi di concentramento. La mostra fotografica studia e ripercorre la storia dei tantissimi atleti la cui vita venne stravolta dalle leggi razziali, imposte dal regime fascista e da quello nazista. Attraverso 48 pannelli si ripercorrono le memorie di atleti, tra biografie e i motivi della loro deportazione. Tanti gli sportivi ricordati che appartengono a differenti nazionalità e diverse discipline, per una mostra davvero unica. Questa mostra nasce esattamente dieci anni fa, in seguito ad un articolo apparso su Sport Week, l'inserto della Gazzetta dello Sport, nella quale veniva John Santoro, una giornalista, affrontava la vita di alcune atlete che negli anni 30 erano famose in Germania e dopo l'avvento del nazismo il loro record e la loro storia era stata dimenticata. Mi sono incuriosita, essendo io un'insegnante di educazione fisica, ho pensato che questo poteva essere un modo per avvicinare i ragazzi, quindi lo sport nei campi di concentramento, avvicinare i ragazzi alla tematica della memoria. Inizialmente mi sono concentrata su atleti di religione ebraica. Poi, dopo un viaggio a Dachau, sono venuta a conoscenza una mia carissima amica, che è una delle guide storiche di Dachau, mi ha raccontato la storia di questo pugile sinti, Johnny Jacob Bamberger. La scoperta che Carlo Castellani, al quale è intitolato lo stadio di Empoli, è stato deportato a Gusen, ha fatto sì di aprire i miei orizzonti e di non concentrarmi solamente sugli atleti di religione ebraica, ma su tutti quegli atleti che hanno visto con promessa la loro vita e le loro imprese sportive dalla tirannia nazifascista. E quindi il materiale è stato cospicuo. Alcune storie come il pugile Schmeling, il ciclista Richter, Bruno Neri, Bruno Scherr, e atleti che per il taglio che volevo dare appunto non rientravano in quelli deportati nei campi, li ho dovuti accantonare, ma spero che in un prossimo futuro si possa ricordare e ridare vita anche a questi atleti qua. E l'anno successivo, il 2013, il 27 gennaio, la mostra è stata inaugurata nella mia scuola, nella scuola dove insegnavo a Scandici, sotto il patrocinio del Comune di Scandici e per volere dell'attuale sindaco Sandro Fallani, che ha creduto in questo progetto. Questa mostra poi ha girato per tutta l'Italia, devo dire, in luoghi anche molto importanti, in Marzabotto, l'Istituto, l'Università Europea di Fiesole, e poi in tantissime scuole, e quello era il nostro obiettivo, da Cosenza fino al Trentino. E in questo itinerario, a Bergamo e a Trieste, la mostra è stata ampliata con nuove biografie, a cura a Bergamo dell'Istituto Storico della Resistenza di Bergamo e a Trieste del Museo Ebraico Carla e Wagner. Sono Allegretti, Unione Nazionale Veteraniello Sport, responsabile, eventi culturali e ricerca. La Barbara Trevis, cara amica, che mi ha preceduto nell'intervista, la definisco la madre naturale della mostra. Io ne sono il padre adottivo, perché ho recuperato questa mostra a Scandicci, laddove, insomma, aveva, era, e l'ho messa in circolazione attraverso la catena delle sezioni dei veterani e lo sport, attraverso i comuni, attraverso le istituzioni culturali di qualsiasi tipo, l'ho messa in giro per l'Italia. E questo è un aspetto relativo alla mostra. La nostra azione non finisce lì, perché, come vedrete dal catalogo, noi facciamo interventi presso le scuole. E presso le scuole siamo dai 40 ai 50 interventi l'anno, nonostante il Covid. Credo che lo sport, attraverso il suo linguaggio, attraverso la potenza del suo linguaggio, possa aiutare a raccontare anche fatti tragici come quelli avvenuti durante il periodo nazista. Io credo che lo sport possa davvero aiutare, possa essere sempre palestra di vita e far crescere il nostro fisico e migliorarlo, ma anche darci, trasmetterci quei valori e quelle qualità che sono fondamentali nella vita individuale e sociale. E poi c'è lo sport agonistico, dove emergono le eccellenze, ma dove si allenano anche a far crescere gli uomini. Grazie alle donne, grazie davvero, perché io penso che dopo un'estate incredibile per il nostro sport, oggi, mandare questo messaggio che lo sport e la memoria possono stare insieme, che lo sport può raccontare attraverso le sue gesta quello che è stato, ma anche quello che non deve essere più. Infatti, Campioni nella memoria raccoglie le storie di atleti che, per non essere piegati all'ideologia del nazismo e del fascismo, hanno subito la deportazione nei campi di concentramento. Purtroppo alcuni di loro anche perdendo la vita. La memoria si trasmette e ritorno così a mandare un messaggio a ciascuno di voi, a tutti quelli presenti. Oggi che c'è, non ci sono più quelle donne e quegli uomini che hanno vissuto questo periodo terribile, credo che ognuno di noi possa svolgere ancora di più il ruolo di amplificatore. Ognuno di noi possa essere parte di una staffetta come quella che ha vinto i campionati del mondo, che si passa la memoria dall'uno all'altro, fidandoci e senza voltarci all'indietro. Io credo che questo sia il messaggio più forte. Oggi il testimone è nelle nostre mani e noi sappiamo che dobbiamo fare la nostra parte. Ognuno di noi può fare la nostra parte. Quindi dunque grazie alla federazione, alla sezione fiorentina dell'Unione Veteranei dello Sport che ci ha regalato questa bellissima mostra. Grazie al comitato provinciale del CONI per averla supportata. E prendiamoci un impegno. Tutti insieme continuiamo a tramandare la memoria. Perché quello che è accaduto non accada mai più. E credo che ognuno di noi possa farlo. Ognuno con la sua voce, ognuno con il suo sorriso, ognuno creando una staffetta collettiva che arrivi in capo al mondo.